Un uomo di mezza età ha bisogno di un bel paio di scarpe da indossare per il matrimonio di sua figlia. Decide allora di uscire e andarsela a comprare. Mentre Chiere in giro per la città, entra in un negozio di scarpe bellissime. Si accomoda, buonasera, e viene la commessa, una bella donna. Signore, mi dica, allora, signorina, io avrei bisogno di un bel paio di scarpe da indossare per il matrimonio di mia figlia. Sa com'è, è un giorno particolare, quindi vorrei un bel paio di scarpe belle, belle. Allora, signorina, mi sembra che lei abbia guardato queste che c'ha in mano. Sì, sì, sono delle bellissime scarpe, ma ne avete a sufficienza? Risponde la signorina, sì, sì. Allora, mi dica il suo numero, il mio numero? Sì, sì, 345 22 37 666. Allora risponde la signorina, no, che c'entra, lei ha capito male. Ah, mi dica, mi deve dire il numero delle scarpe che le servono? Ah, ho capito, due, due mi basta. Ah, ho capito, due, 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 due.